Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video, che probabilmente pubblicherò subito. Vi chiedo scusa per la voce, può sembrare che io abbia fatto altro, ma in realtà è solo bassa. L'unica cosa per cui ho pianto ieri sera è già posta per te. In particolare la sorpresa della mamma con i sette figli, o otto, non mi ricordo. Penso che sia doveroso spendere due parole su quello che vedrete nel titolo di questo video, perché siete stati i miei più grandi supportatori, se si può dire così. di quella che è stata la mia storia sentimentale, e che come avessi capito è finita. Ho lasciato io, ho lasciato io, quindi non verrò qui a fare la vittima quel puntini puntini mi ha lasciato. No, non è così, perché ho lasciato io... Ho lasciato io... Perché se tanti altri problemi si potevano risolvere, non era l'unico problema. Non ho potuto tollerare per l'ennesima volta di dover essere io ad aggiustare le cose, di dover essere io a cercare, a riparare, a raccogliere i cocci. Il primo passo, quando si sta in coppia, va assolutamente diviso. E questa è l'unica cosa che dirò. Le altre motivazioni non le dirò. Perché comunque, esiste una cosa che si chiama privacy. E nonostante... Io non sia minimamente felice di come siano andati gli ultimi due mesi. Perché erano due mesi che le cose non andavano. Non voglio aggiungere altro. Perché la mia vita precedente a questa persona mi ha insegnato ad essere un signore. E non voglio fare le visualizzazioni e i like sulle disgrazie. Perché se farò le visualizzazioni e i like, come sempre, come in tutti gli altri video, dipenderà da voi. Soprattutto. Io spero che non succeda proprio quello che mi aspetto. Ossia che mi siete stati vicini a storia comunicata. E adesso la storia finita non interesserà a nessuno. Questo mi interessa, non i soldi. Perché vorrebbe dire che allora state vicino alle persone soltanto quando stanno bene. Io auspico di trovare lo stesso supporto di quando vi ho detto che la storia era iniziata. Vi saluto perché veramente stamattina non ho voce. Sto pagando a sangue il fatto di aver voluto cantare ieri sera. Ma mi sentivo meglio e ho fatto l'errore di cantare. Vabbè. Vi ringrazio per chi è arrivato fino alla fine. E noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Non l'ho fatto fino ad adesso, non per altro. Ma il tipo di rubrica che abbiamo iniziato richiede un pochino di impegno e di studio. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.